Se volete siete tutti i miei ospiti nella mia villa Miami. Il mio nome è John. John Wayne. Ma hai fatto molto male! Come si dice Miami? Il mio nipotino? È nero! È scuro. Ma di chi è figlio quello lì? Il bambino è un po' scuro, è un po' buio. La fidanzata di papà. Domenica in prima serata. Su Italia 1.